Il motivo per cui è stato mandato qui per stabilire se è malato di mente oppure no. Sono convinti che lei finge per cercare di evitare di lavorare. Secondo lei è un'area di essere un paracurro? Medicina, prego. Che buona! Se la vi fa filare tutti come pecondi. Per chi l'avete presa? Per il Padre Eterno? Vuole dire qualcosa al gruppo, signor McMahon. Voi non siete più pazzi della media dei coglioni che vanno in giro per la strada, ve lo dico io. Vuoi vedere la partita di baseball? Che ne pensa di metterlo ai vuoti? Ho la televisione accesa! Adesso! Subito! Il grande capo! Mettetela immediatamente. Il grande capo, mettila dentro! Le piace stare qui? C'è dubbio! C'è quella stranza di infermio. Ehi, un momento! Viva! Hai visto com'è facile? Che ho preso un pesce! Vieni, Billi! Vieni! 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 Bebo! Tieno forte! Tieno forte! Ehi, tu! Mi è piaciuta! Squilibrati, lunatici, matti, deficienti! Ma che cosa vi credete di essere, vacca troia? Pazzi? Davvero? Invece no! Invece no! Tieno forte!